Buongiorno a tutti, sono il dottor Capogrosso di Varese e della team Uomo360, oggi abbiamo effettuato insieme al professor Antonini una chirurgia protesica in un paziente sottoposto in precedenza all'intervento di prostatectomia radicale per tumore della prostata e successiva radioterapia con un importante problema di fibrosi dei corpi cavernosi condizionante anche una curvatura chiaramente non responsiva alla terapia medica e abbiamo appunto oggi eseguito un intervento di impianto di protesi peniena idraulica per via infrapubica che è andato perfettamente con una tecnica del tutto mini invasiva.